adesso torna compatto o quasi o quasi perché in contropiede ci riprova ancora Ivan Colombo legnanese ultimi 4.000 metri anzi è Paolo Favero è Paolo Favero col 101 sempre in forza della legnanese adesso che prova in contropiede bravissimi il tandem legnanese prima con Colombo ora con Favero in contropiede vogliamo anticipare tutti in questa fase finale vogliamo anticipare dunque la rampa finale i ragazzi del legnanese ci prova adesso Paolo Favero con pochi metri di vantaggio circa 150 metri adesso di vantaggio per Paolo Favero testa bassa gli ultimi 3.000 metri di corsa con il gruppo comunque che lo tiene nel mirino pronto, pronti a rassorbirlo in questo finale gli ultimi 3.000 metri di corsa fase decisiva che stiamo vivendo live sui canali ufficiali di Penta Giovani, Penta Ciclismo, Facebook e Youtube con uomo solo a comando Paolo Favero è il gruppo a 100 metri adesso che prova a riassorbirlo sono circa 20 adesso ad inseguire il battistrada vicinissimi comunque a lui quando mancano circa 3 km di conclusione manca sempre meno intanto alla resa dei conti finali sta per essere ripreso là davanti Paolo Favero dal gruppo eseguitore la concorrenza mai ridotta circa 20-30 unità che da qui in poi si giocheranno dunque la maglia del mio campione regionale Lombardo categoria esordienti secondo manno Paolo Favero sempre al comando ma il gruppo che adesso è in salita sta per riprenderlo e dunque gruppo compatto o quasi sono in circa 30 unità che a breve saliranno su per la salita che porta la rocca di Sabio Chies per il gran finale sono sgranate adesso il comando passa in maglia Roncomaurigi col 38 adesso guidare il gruppo Thomas Martinelli è sempre attivo alle sue spalle anche Cristian Mazzoleni delle pedale brembillese e poi comunque il gruppo vicinissimo praticamente attaccato a loro ed ora tra mai pochi minuti vivremo il gran finale dell'epilogo la resa dei conti della categoria esordienti questo è il secondo anno a breve la rampa della rocca che sarà teatro della sfida finale della battaglia finale qui a Sabio Chiese con il gruppo compatto ripreso questo momento Favero dai primi contrattaccanti sono sgranati ma di fatto ancora compatti da davanti ora si forma un breve buco tra i primi sei gli seguitori ma di fatto i ritmi comunque permettono a tutti gli altri di rientrare rientra anche Gamba rientra anche un alfiere della Gazzanighese adesso c'è in maglia Villongo con il numero 39 Colosio ancora presenti in questo gruppo a chiudere questo gruppo ora sono circa 12 il comando e c'è una nuova accelerazione in testa gruppo occhio intanto rientra anche in maglia bustese Ettore Martinelli a chiudere il trepello comando circa 10 elementi con pochi metri di vantaggio agli ultimi 2000 metri di corsa prova a rientrare anche adesso Ivan Colombo là dietro rientra anche in maglia Biassono con 99 Riccardo Farias anche in maglia romanese un atleta adesso verso di mente Ferrari prova a chiudere il gap ma questa accelerazione rende la vita complicata che sta inseguendo altro attacco in testa gruppo infatti agli ultimi 2000 metri che accelerano ancora i ritmi in testa della corsa mentre siamo pronti per vivere ormai il gran finale l'ingresso il ritorno qui in sabbio chiese e a breve dunque l'ultimo chilometro ora giù per la discesa poi varcheremo il ponte su fiume chiese e saliremo per l'ultima volta verso la gloria verso la rampa finale di sabbio verso la rocca con la testa della corsa comunque allungatissima all'imbocca a breve dell'ultimo chilometro la resa dei conti finale qui a sabbio chiese con i big tutti presenti davanti per giocarsi dunque in questo finale spettacolare il titolo di campione regionale ora varcato il ponte sul fiume chiese a breve dunque la corsa che rientrerà nel centro storico di sabbio per il gran finale la rampa che a breve inizia con il gruppo allungatissimo in questa fase e tra pochi istanti per vivere assieme il gran finale sull'ultima rampa ormai ci siamo pochi istanti e poi testa della corsa qui per giocarsi l'assalto alla rocca di sabbio chiese con il nuovo solo comando ed è un bis c'è stoico per Marco Zocco Marco Zocco Marco Zocco Marco Zocco che vince replica Bissa il titolo regionale l'anno scorso primo l'anno scorso ed oggi ancora campione regionale quinta vittoria stagionale per Marco Zocco la più bella fino a questo momento che gli vale il Bissa regionale andiamo con il podio partiremo a breve con interviste con il mio campione regionale Lombardo Marco Zocco Galvati Cicca Esposito dunque a breve torneremo qui in studio per la difesa del titolo non era per niente facile ripetersi hai fatto un numero oggi Marco sì assolutamente sapevamo di essere molto forti l'unica l'unica incognita era un po' il percorso abbastanza vallonato e non completamente per me ma sono giusto da tenere duro per tutti i giri poi all'ultimo chilometro visto che si controllavano sono provato ad andare via e nessuno mi è venuto dietro ecco tu hai corso bene o male sulla difensiva hai chiuso sugli attacchi dei più diretti possiamo dire ma non hai mai scattato sì assolutamente proprio per questo motivo sapevo che era che per me era quasi impossibile fare la differenza per tutti i pezzi in salita ho cercato di chiudere e dare tutto alla fine e l'attacco finale raccontacelo un po' una rasoiata potente è stata sì pensavo di non riuscirci perché nell'ultimo strappetto dall'8% ero proprio al limite era tutta stavo ero non potevo dare di più ho respirato quei 5 secondi che bastavano sono riuscito a scattare cioè di fare le curve a tutta e sono riuscito ad arrivare da solo quinta vittoria stagionale i prossimi obiettivi quali saranno cioè cercare di andare bene all'italiano strada e pista anche regionale e pista che tra un pochi giorni e finire con la coppa di sera e provare anche il ghisallo complimenti Marco grazie Marco Zocco dunque nel campione regionale la difesa del titolo per lui quest'anno dopo la vittoria l'anno scorso passiamo al secondo classificato ci ha provato e come oggi in tutti i modi bravissimo e generoso è Cristian Mazzoleni Cristian è mancato poco si è mancato veramente poco oggi l'obiettivo era scattare e arrivare da solo gli ultimi tre giri ci ha provato siamo andati anche in un gruppetto in fuga ma non tirava nessuno quindi alla fine eravamo in un gruppetto di 20 alla fine è scappato via Zocco e non siamo più riusciti a prenderlo secondo l'anno scorso in questa gara secondo quest'anno il suo percorso comunque è molto duro che tipo di corridore sei? ma finora me la cavo un po' dappertutto e a me piace soprattutto anche la salita complimenti dunque a seconda classificato Cristian Mazzoleni pedale brebillese ed ora al podio chiuso in maglia alzata e brianza prego dunque al terzo classificato con numero 20 dunque Filippo Colella anche partendo una gara comunque generosissima spesso diventieri davanti ad attaccare a chiudere e poi un po' che comunque ti premia per questo grande sforzo si è stata una gara molto dura soprattutto l'inizio dei giri piccoli con la salita del semaforo all'inizio ero molto dietro poi all'ultimo giro sono riuscito a recuperare dopo la discesa e dopo all'ultimo chilometro è partito Zoco solo non sono riuscito a stargli dietro e poi agli ultimi 200 metri mi ha sorpassato Mazzoleni un bel podio per te i prossimi obiettivi quali saranno? i prossimi obiettivi saranno il campionato italiano e la coppa di sera complimenti dunque anche al terzo classificato Filippo Colella Totebrianza che va dunque a cogliere il terzo posto a chiudere un bellissimo podio Marco Zoco che riceve dalle mani del presidente regionale Stefano Pedrinazzi la maglia di neocampione regionale esordiente secondo anno la difesa del titolo di Marco Zoco con Cristian Mazzoleni e con Filippo Colella il podio dei regionali esordienti secondo anno 2022